buongiorno stelline dobbiamo parlare ancora una volta dei modelli 3d di tarkov l'ennesima bugia è il titolo di questo video perché perché a quanto pare l'altro giorno quando vi ho fatto il video riguardante l'eventuale il possibile furto di modelli da parte di arena breakout su tarkov sono stato un po veloce nel giudicare vi spiego meglio riguardando il video l'ho appena riguardato per capire che cacchio avessi detto sono d'accordo con tutto il mio punto di vista era un punto di vista ancora disinformato sull'effettivo furto o meno ma rimane lo stesso sono affari della compagnia di sviluppo sono cose che al player non interessano tendenzialmente se sono stati rubati i modelli bisogna vedere come sono stati protetti eccetera eccetera il video rimane valido tuttavia non mi era accorto di un dettaglio non bellissimo nel senso che in questo post dove nikita mette due modelli è lo stesso modello è fisicamente lo stesso modello nel senso che è proprio lo stesso io nel video nello scorso video vi spiego un dettaglio vi spiego quelli grigi sono quelli di tarkov e sono fatti di quadrati quelli gialli sono di arena e sono fatti di triangoli peccato che in questo post sono tutti e due fatti di triangoli molto strano no e no non è molto strano perché one peg che è uno streamer streamer content creator di tarkov super 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 stagionato che ha sempre partecipato molto alle varie discussioni questa cosa non se l'è fatta andare giù e ha detto abbiamo trovato abbiamo tirato fuori tutte le cover di ak persino quelle delle rd e del pp 19 due volte e non riusciamo a trovare questa esatta dust cover nei file di gioco di tarkov per quanto ci riguarda questo dust cover non esiste in tarkov forse qualcuno sa qualcosa che io non so secondo post abbiamo trovato il dust cover e nei file di arena breakout non è in tarkov non possiamo trovarlo in nessuna build di tarkov dell'ultimo anno l'unica possibilità rimanente è che sia una vecchia dust cover buttata anni fa questo vuol dire cari miei amici telespettatori che il signor nikita bujanov pur di far parlare di qualcos'altro piuttosto che della truffa che ha tentato di instaurare ha creato un file falso perché nel suo post dove dice che i due file sono uguali ha ragione i due file sono uguali e sono entrambi del competitor non è tarkov contro arena breakout e arena breakout contro arena breakout in questa foto particolare in questa specifica foto grazie a stopiffero che è identico è lo stesso e non è di tarkov quindi già qua mossa infima allucinante per cercare di sviare l'attenzione devastante ma poi poi mi sono guardato il video di eroctic eroctic è un altro streamer artista 3d che in passato ha avuto tantissimi problemi con battle state nello specifico lui ha sempre creato del contenuto dove denunciava pesanti difetti del gioco spingendo gli sviluppatori a risolverli una dei suoi contributi più grandi chi segue le live lo sa perché lo racconto spesso è il fatto che una volta il ratio di fuoco delle armi era collegato agli fps che il tuo computer era in grado di fare in poche parole eroctic scoprì all'epoca che se volevi giocare il gioco con le impostazioni alte quindi con meno frame la cappa faceva un rumore c'era scritto che sparava 650 colpi al secondo in realtà ne sparava 400 perché facevi poche fps se invece giocavi in 540 per 360 tutto al minimo e facevi 200 fps su factory lo stesso a cappa con lo stesso rumore con lo stesso ratio da 650 in realtà ne sparava 1200 come un vector quindi ha scoperto questa cosa ha fatto un video e hanno dovuto risolverlo tanti altri piccoli problemini come questo e un giorno ha scoperto qualcosa di molto grave che tra parentesi è il motivo per cui ancora oggi rubano gli account su tarco aveva scoperto una vulnerabilità nel sito che in due minuti senza alcun tipo di competenza permetteva di vedere in chiaro i dati di accesso di tutti i giocatori dal sito ufficiale di tarco in tutta risposta nikita bujanov invece di risolvere il problema o di contattare eroctic per una soluzione tra parentesi eroctic prima di fare quel video aveva contattato ben tre volte il supporto senza alcun tipo di successo e quindi aveva deciso di farsi sentire in quel modo bujanov ha fatto 47 copyright strike 47 come la k47 al canale di eroctic facendoglielo eliminare da youtube fu il momento in cui tantissimi si devo devo smettere devo smettere di parlare senza audio nelle cuffie perché si spengono da sole comunque fu il momento in cui alcuni streamer si allontanarono da battestate games dal punto di vista proprio di collaborazione parlo di clean altro streamer famosissimo che è stato il primo emissario della storia di tarkov e in seguito a quell'evento aveva preso le distanze ha detto continuo a giocarlo ma io non voglio più essere associato comunque escursus a parte eroctic ha fatto un'analisi molto più approfondita della mia su questi file io vi ho detto che erano lo stesso file perché a colpo d'occhio mi sembrava così ma effettivamente con un'analisi più approfondita non sono lo stesso file sono due file diversi perché guardate bene contiamoli insieme guardate le suddivisioni di questa cover c'è una faccia molto lunga poi ne abbiamo una due tre quattro retro se questo fosse triangolato come vi dicevo nello scorso video sarebbe così sarebbero quattro serie di triangolini eppure qua abbiamo uno due tre e retro quindi non è lo stesso file è estremamente simile estremamente simile ma non è lo stesso file anche qua contiamo uno due tre quattro cinque sei sette facce esposte contro una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici facce questo è un cerchio da 16 facce totali di diametro questo è un cerchio da 24 facce di diametro quindi nemmeno questo è esattamente lo stesso e di questo vi ricordo che il grigio dovrebbe essere i file di tarkovi gialli i file di arena breakout i file di arena breakout hanno un livello di dettaglio leggermente minore lo possiamo vedere per esempio in questo bevel che qua è affilato a coltello proprio uno e due mentre qua a questo arrotondamento non sto a annoiarvi con i dettagli lo abbiamo appena finito di fare in live non sto annoiarvi con i dettagli vi chiedo semplicemente di fidarvi di me o di guardare il video di eroctik se volete qualche informazione in più ma riuscire a rubare il modello grigio e ripristinare questo dettaglio è un lavoro infinitamente più lungo che semplicemente rifarlo da zero è molto più facile rimodellare questo da zero piuttosto che andare a distruggere questa superficie e ricostruirla mantenendo la complanarità con due superfici curve su due asse diversi tra l'altro è anche diverso questo disegno noi abbiamo questo profilo mentre qua abbiamo un profilo diverso quindi sono due file molto simili molto simili ma diversi e non solo diversi non sono lo stesso file alterato sono due file fatti dello stesso da diversi pugni cioè sono due file fatti da zero com'è possibile che combaciano così perfettamente ma non lo so ho cercato due secondi su google sarà perché partono entrambi dallo stesso file cad disponibile gratuitamente parametrico dell'rpk 16 sarà forse perché è disponibile su grab cad che una piattaforma di scambio di file cad l'esatto modello dell'rpk potrebbe 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 no ragazzi semplicemente semplicemente entrambe le compagnie sono partite dallo stesso modello di riferimento il file che vi ho fatto vedere è un file parametrico parametrico significa che è un file fatto per la produzione adesso non è proprio la stessa cosa vi faccio vedere uno dei lavori che faccio per armory questa è una superficie scansionata fatta di faccettine questa fatta di poche facce molto molto regolari e invece la superficie progettata modellata in maniera parametrica ovviamente questo tipo di superficie non può essere usato in un videogame e deve essere per forza fatto in un modo diverso che è quello del topologia classica che avete visto quindi questo è semplicemente il file esecutivo cad c'è da questo file io posso farla un rpk e sono partiti dallo stesso file e hanno ottenuto due due modelli molto simili perché chiaramente la base sotto è la stessa ma non c'è dubbio io nello scorso video vi ho detto che erano lo stesso file mi sbagliavo non le avevo visti con abbastanza occhio per esempio potete vedere che combinazione nella parte che nell'inquadratura non si vede qua sotto completamente tutto diverso così come diverso la sprezza di questo dettaglio che in questo caso è più morbido mentre in questo è più vedete molto più marcato per esempio la sicura che qua è posizionata in basso qua è posizionata in alto la forma di questo taglio che in questo caso è curva in questo modo ma in questo invece è più dritta la suddivisione di questo pezzo che qua è molto più scarno diciamo così come possiamo vedere vediamo se riescono a notare altre cose beh sì il fatto di sovrapporre serve a poco niente guardate qua guardate qua arena breakout ha un ulteriore dettaglio per un'indentazione mentre tarkov non ce l'ha quindi sono due modelli diversi ma perché è importante che siano diversi che ve ne frega voi che siamo uguali diversi è importante perché significa che il signor nikita vi sta prendendo tutti per babbei ci sta prendendo tutti per babbei cercando di sviare l'attenzione su una fandonnia costruita apposta per non parlare per dimenticarsi per passare oltre quello che hanno appena fatto lascio a voi la libertà di giudicare di farvi una vostra opinione non vi voglio dire io cosa penso di questo e anche perché poi appunto mi avete chiesto di non parlare male di tarkov se le cercano però giudicate voi anzi scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di un comportamento simile anche per oggi è tutto